Il mondo di Elio Terwitt spiegato alle guide turistiche pugliesi. Dopo il successo delle due giornate aperte ai docenti, la mostra Icons, che finora ha attirato oltre 14.000 visitatori, torna a proporre un nuovo evento dedicato agli operatori del settore. L'intento è quello di approfondire e promuovere la ricerca dell'eccentrico ironico fotografo scomparso poco più di un anno fa. È una giornata dedicata a loro, alle guide turistiche, perché di fatti con l'aumento e l'incremento del turismo e dell'attrattività della nostra città, sicuramente le guide turistiche sono coloro che danno il biglietto di benvenuto e fanno esplorare ai turisti il nostro territorio. Durante l'open day, le guide turistiche abilitate hanno potuto suffruire della visita per approfondire i temi contenuti, la narrazione e il percorso espositivo della mostra, un modo in pratica per effettuare una simulazione di guida da sottoporre successivamente ai propri gruppi turistici. La partecipazione permetterà a loro di accompagnare in seguito i gruppi, usufruendo di uno speciale sconto promozionale. Devo dire che è una persona veramente molto sensibile, gioca molto sulla ironia, le sue fotografie sono molto suggestive e secondo me proprio affascinano sia il mondo dei piccoli, il mondo in questo caso degli animali e il mondo anche nostro, diciamo, quotidiano, della vita reale, ma in una maniera molto semplice e diretta. L'esposizione sarà ospitata negli spazi del Teatro Margherita fino al 31 marzo. Stiamo già progettando una seconda giornata perché c'è stata una grande richiesta soprattutto dalla BAT e la zona di Lecce e quindi effettivamente, tra l'altro anche a dire, ascoltando le guide è stato per loro un piacere poter essere qui e soprattutto qualcosa di cui avevano bisogno.